Come rifondazione comunista denunciamo la gravità di quello che sta accadendo alla Sevel. La FCA riapre e annuncia di riaprire domani uno stabilimento, il più grande del gruppo, 7000 e passa dipendenti, e non è una produzione essenziale. Il lockdown non doveva finire il 4 maggio. E questo avviene con la complicità del prefetto, perché il prefetto potrebbe dire no alla apertura, riapertura anticipata, e della regione Abruzzo, della giunta di centrodestra, che anzi si complimenta con la Sevel che riapre. Noi pensiamo che si tratti di una vergogna. Tra l'altro la regione abbiamo dimostrato che non ha predisposto un piano per il trasporto degli operai che prendono mezzi pubblici per arrivare allo stabilimento e non possono prendere mezzi sovraffollati proprio per i motivi del contagio. Inoltre tutto questo evoca la responsabilità non solo del centrodestra al governo della giunta regionale, ma anche del governo nazionale, anch'esso sotto dettatura di Confindustria, che ha approvato un decreto sostanzialmente debole, perché questa chiusura del lockdown ovunque le grandi imprese non la stanno rispettando, utilizzando il meccanismo del silenzio assenso. E' una vergogna, noi invitiamo il prefetto a negare il permesso di riapertura alla Sevel.